C'è Carlo Liberati, partecipi al motodrip, ovvero non prendi parte alla corsa ma ti hanno chiesto di esporre, tra l'altro hai un cognome importante, che effetto fa a essere il nipote di Libero Liberati a terra? Un effetto strano diciamo perché non sono del tutto abituato a sentire il calore della gente che sosteneva mio nonno, soprattutto la gente di una certa età che mi vede e gli si illuminano gli occhi, vedere il 39 è ancora qui, sta diciamo. Che tipo di modo esponi, tu che disciplina fai? Io partecipo nel campione italiano motard, l'anno prossimo le onda del team pizzico uniresico di Roma e vediamo un po' l'anno prossimo di portare dei risultati, di preciso, non so bene cosa perché diciamo sono un deputante ancora, quindi andiamo all'esplorazione. Senti a Palazzo Spada di recente si è parlato di un circuito motoristico, che cosa ti aspetti dall'amministrazione e da questa città? Potrebbe essere una buona opportunità secondo te? Sì, può essere una buonissima opportunità, anche se io di questo circuito non ne so i dettagli, so soltanto che se si realizza può essere una buona cosa per la città.